Nel nuovo circuito di Abu Dhabi si è appena concluso il mondiale 2021 di Formula 1, un epilogo incredibile, memorabile per certi versi, ha consegnato il titolo del mondo a Max Verstappen, primo della carriera per il 23enne olandese e primo in assoluto per l'Olanda nella storia della Formula 1. In questo nuovo circuito di Abu Dhabi come vediamo qui dalla grafica che è stato velocizzato appunto di 10 secondi rispetto alla versione precedente, è stata tolta la chicane nel primo settore, al suo posto è arrivata una parabolica nuova, così come è arrivata una parabolica nuova nel secondo settore e poi è stato anche rimaneggiato il terzo settore che sarà fondamentale per la scenazione del titolo del mondo. Ma tra poco ci arriviamo in questo ultimo episodio del recent podcast della Formula 1 perché ci sarà tanto tanto da dire e di conseguenza sarà un episodio veramente tanto lungo e partiamo dalla partenza questa volta e non dalla fine come facciamo di solito perché già qui si capiva che sarebbe stata una gara abbastanza particolare perché Verstappen sbaglia la partenza e di fatto cede il passo a Lewis Hamilton ed è un errore questo di Verstappen perché l'olandese ha le gomme rosse mentre Hamilton ha le gomme medie per la quale peraltro è più performante. Si arriva a questo punto alla staccata della chicane di Abu Dhabi con Verstappen che vede lo spazio lasciato da Lewis Hamilton che di fatto non difende e lascia la porta aperta, ci si infila, Hamilton andrà letteralmente lungo e taglierà la chicane per poi andare in prima posizione e da lì costruire la sua gara. Già questo è un episodio controverso e un po' ci ricolleghiamo ancora una volta ad una direzione gara che poteva fare secondo me qualcosa di più, un episodio che a parte invertite è stato penalizzato appunto con i 5 secondi a Jedda, ricordate quello che è successo appunto la settimana scorsa con Verstappen che tagliò la curva 1 e Hamilton che a sua volta tagliò la stessa curva e qui Verstappen venne penalizzato. A parte invertite qui Hamilton non è stato penalizzato perché è stato valutato in parte perché fosse il primo giro di gara e in parte perché evidentemente hanno valutato che Hamilton ha aperto lo sterzo per bypassare Verstappen che effettivamente fa una staccata comunque al limite ma comunque dentro la pista Hamilton invece per evitare il contatto con l'olandese finisce letteralmente lungo e va evidentemente poi a guadagnare qualcosa. Anche in telecronica Sky avevano affermato che Hamilton avesse dovuto restituire la posizione ed è una visione che mi trova particolarmente d'accordo. Qui la direzione gara fa orecchie da mercante e lascia correre per l'indignazione del box Red Bull che effettivamente chiede spiegazioni su quanto successo e anche qui la direzione gara effettivamente glissa con le motivazioni che vi ho dato. In ogni caso è una gara che denotava già delle connotazioni psicologiche importanti però a discapito della Red Bull perché Verstappen raramente sbaglia le partenze e qui lo ha sbagliato e Hamilton ne ha di fatto approfittato. Da qui in poi sembrava una gara letteralmente indirizzata verso Lewis Hamilton che di fatto per 53 giri su 58 avrà la meglio su Max Verstappen se non in due episodi isolati che secondo me faranno tanto la differenza. Non per quanto riguarda il primo episodio che è una virtual safety car dovuta al ritiro di Antonio Giovinazzi all'ultima gara con l'Alfa Romeo dove di fatto Verstappen mette le gomme dure nuove mentre Hamilton sta fuori. L'episodio decisivo però arriva al 53 e 58 giri previsti e torniamo a quel terzo settore galeotto per la Mercedes e torniamo all'episodio che dicevamo poco fa perché vediamo qui al 53esimo giro Nicola Satifi dopo un duello con Mick Schumacher perde la macchina nell'ultimo settore e va a schiantarsi a muro per questo motivo ci sarà la safety car che di fatto deciderà la competizione. Verstappen in questa occasione va ai box, mette le gomme morbide, Hamilton ancora una volta sta fuori e questa scelta sarà devastante per il mondiale di Lewis Hamilton perché il pilota olandese Max Verstappen con gomme necessariamente più performanti va a sbarazzarsi di Lewis Hamilton nella staccata di curva 5 e taglierà il traguardo per primo conquistando il titolo del mondo 2021 dopo veramente 22 gran premi di battaglia incredibile dopo tantissime polemiche soprattutto quelle del Brasile e Arabia Saudita dove effettivamente Verstappen ne ha combinate abbastanza per ricevere tante penalità anche Hamilton in alcune occasioni è stato al limite e anche oltre. Vedi per esempio Silverstone tutto questo per condire un duello tra due fuoriclasse di questo sport il primo Max Verstappen molto più giovane ricordiamo 23 anni e di fatto al primo titolo del mondo della carriera di là uno dei più grandi di tutti i tempi ovvero Lewis Hamilton che non vince l'ottavo titolo del mondo almeno il record di Michael Schumacher rimane evidentemente ancora al primo posto come mondiali vinti in totale cioè 7 seppur in coabitazione con Lewis Hamilton ma in ogni caso il campione del mondo della categoria è Max Verstappen per la gioia dei tifosi olandesi accorsi in massa ad Abu Dhabi per vedere peraltro il loro beniamminio triunfare davanti al rivale di quest'anno e dunque per la decima volta in stagione suona Helt Wilhelmus al termine comunque di una gara che ha visto Verstappen molto baciato dalla fortuna a differenza di Lewis Hamilton che onestamente avrebbe meritato tanto di vincere questa gara una gara che invece lo ha visto al secondo posto è un peccato vedere appunto Hamilton perdere in questo modo visto che appunto per 53 giri aveva dimostrato veramente di fare il passo superiore a Verstappen che non ne aveva infatti la Red Bull ha dovuto utilizzare la strategia a due punte e tra poco ne parleremo contro invece un Hamilton che di fatto si è ritrovato da solo a fare il passo gara che sapeva fare la safety car comunque ha ribaltato le sorti di questa competizione e di conseguenza abbiamo alla fine questo punteggio che vediamo con la grafica come al solito di Wikipedia inglese che ci dà una mano appunto 395,5 punti per Verstappen contro i 387,5 di Lewis Hamilton che perde il mondiale appunto per diversi errori in questo caso del muretto Mercedes che posso capire che nel primo caso quindi Virta Sestica di Giovinazzi non richiama Hamilton per comunque continuare il passo incredibile che aveva con le gomme dure nel secondo caso secondo me era giusto copiare la strategia di Verstappen mettere quantomeno delle gomme più performanti rispetto alle dure che erano vecchie di 40 passagiri e di fatto evitare di abdicare così senza di fatto porre resistenza a un Verstappen che invece è stato scaltro ma in generale la Red Bull è stata scaltra perché ha sfruttato alla grande quest'uomo ovvero El Checo Perez che ha fatto il perfetto compagno di squadra El Checo riuscirà a rallentare tantissimo Hamilton in una determinata fase di gara prima del primo pit stop di Perez facendo guadagnare a Verstappen quei 5 secondi che davano quantomeno una speranza di rimanere attaccato appunto a Verstappen rispetto a un Hamilton che con le gomme dure veramente ne va tanto di più Perez peraltro farà una manovra, una serie di manovre molto corrette difenderà la posizione come è giusto che venga difesa e dopo tutto alla fine cederà il passo all'inglese per Toto Wolff in realtà non è così secondo il boss austriaco della Mercedes Perez ha fatto manovre pericolose anche qui in questo caso giustamente Michael Masi di fatto lo glissa e non gli risponde nemmeno come è giusto che sia la risposta di Michael Masi è sono piloti lasciamoli correre e effettivamente è giusto lasciarli correre segno però comunque questo che la Mercedes era conscia secondo me di avere soltanto un pilota a disposizione ovvero Lewis Hamilton che veramente oggi aveva comunque la macchina migliore ma è dal campiamo del Brasile che la Mercedes ha la macchina migliore va detto però che il muretto non è all'altezza della macchina di Hamilton e dello stesso Hamilton perché con una gomma secondo me più performante in fase finale di gara quindi all'ultimo giro probabilmente il mondiale l'avrebbe vinto Lewis Hamilton o quantomeno avrebbe avuto più chance di difendere la posizione cosa che non si è verificata perché è ovvio che con una gomma dura di 40 giri non avremmo chance di vincere contro una gomma fresca rossa quindi la morbida la più prestazionale Hamilton appunto si è ritrovato a correre da solo perché come vediamo il povero si fa per dire Valtteri Bottas non è stato un fattore per tutta la gara chiude mestamente sesto e questa è la differenza appunto tra la Red Bull e la Mercedes di quest'anno se avesse vinto la Red Bull in mondiale cosa che effettivamente è successa potremmo dire senza se e senza ma che è il mondiale della Red Bull complessiva che si è comunque deciso a fare una macchina molto competitiva per Verstappen e anche in certi versi per Perez poi ovvio che Verstappen ci ha messo l'80% del contributo e Perez ovviamente il 20% in totale alla scuderia che comunque perde il mondiale ai costruttori discorso diverso invece va fatto per la Mercedes che di fatto ha contato soltanto su Hamilton che il rendimento è sotto gli occhi di tutti a discampito invece di un Valtteri Bottas che ha vinto una sola gara in Turchia e per il resto sì qualche podio qua e là ma non è mai stato un fattore per aiutare comunque Hamilton contro questa Red Bull che comunque nell'ultimo anno di Honda ha fatto sicuramente quello che doveva fare ovvero dare una macchina competitiva a questo ragazzo Max Verstappen e l'avevamo sempre detto fin dall'inizio di quest'anno se la Red Bull si degna di fare una macchina competitiva dalla numero 1 come gara si riesce tranquillamente a arrivare in fondo al mondiale quantomeno per giocarselo vincerlo poi è un altro discorso e Verstappen comunque l'ha vinto con 10 vittorie contro le 8 di Hamilton certo quel punto 5 in generale per entrambi i contender fa ricordare a tutti la farsa che fu la gara di Spaffan con Schamp che qui è un altro episodio a favore di Max Verstappen ma in un come dire arco di gran premi che qui sono 22 ci sta che la fortuna giri per entrambi i piloti sicuramente questa gara di Abu Dhabi e il Belgio sono una cartina di tornasole importantissima per il titolo del mondo di Max Verstappen che comunque ha dimostrato di essere un pilota completo un pilota che ha avuto un rendimento consono alla macchina che aveva e ricordo che la Red Bull finalmente ha fatto una macchina competitiva al pilota olandese e a tutto testo ha comunque uno dei got della disciplina ovvero Louis Hamilton che in questa gara probabilmente meritava sicuramente di più di questo secondo posto ma comunque con 10 gare contro 8 è evidente che chi vince ha sempre ragione e quindi celebriamo il primo campione del mondo olandese della storia ovvero Max Verstappen in un podio che peraltro appunto vede Louis Hamilton secondo ma vede uno straordinario Carlos Sainz in terza posizione uno di quelli che si meriterebbe senza se e senza ma il premio di driver del giorno perché è vero che Hamilton e Verstappen hanno combinato una gara molto interessante e hanno molto offuscato gli altri piloti ma comunque Carlos Sainz compie il quarto podio della stagione strabatte le Clerc nella classifica mondiale ed evidentemente ancora di più si cari anche del titolo mio personale della classe operaia che va in paradiso perché Carlos Sainz ricordo è arrivato come nomea di secondo pilota diciamo così a discapito di Charles Leclerc che appunto il predestinato doveva comunque portare la macchina a un livello superiore effettivamente la macchina è stata portata a un livello superiore ma comunque Carlos Sainz ha portato punti importanti e dei piazzamenti incredibili per questa Ferrari che di fatto se la lottava con la McLaren per la terza macchina in pista e nelle ultime gare soprattutto poi la rossa di Maranello ha evidentemente calato le prestazioni ma come appunto la sua gemella McLaren Carlos Sainz sfruttando la safety car e il ritiro anche di Perez negli ultimi giri compie veramente una grandiosa gara e porta a casa il terzo terzo posto di questa stagione quarto podio nel complessivo straordinario Carlos Sainz in terza posizione quarto è Yuki Tsunoda che per tantissimi giri della gara starà davanti a Valtteri Bottas segno appunto inquevocabile che comunque nonostante la macchina migliore perché ricordiamo che dal Brasile in avanti la Mercedes è la macchina migliore a differenza della Red Bull appunto il giapponese riesce a tenere testa a Valtteri Bottas che ripeto è ancora l'ombra del pilota che fu ma comunque gara molto importante di Tsunoda che pound for pound scusatemi disputa la miglior gara della carriera quinto in questa gara di Abu Dhabi è Pierre Gasly con l'altra Alfa Tauri veramente una prestazione meravigliosa della scuderia faentina che veramente chiude in bellezza questa stagione sesto è Valtteri Bottas di cui abbiamo già parlato più e più volte settimo è Lando Norris per una McLaren che veramente da quando ha fatto quell'1-2 incredibile a Monza non ci ha capito veramente più niente e gli si è spenta la luce e di conseguenza ancora una volta Ricciardo e Norris sono finiti veramente after the music ottava posizione per quanto riguarda la gara di Abu Dhabi per Fernando Alonso che comunque anche una volta fa una gara molto buona e molto solida in top 10 peraltro battendo il suo compagno di squadra Estebono Con che finisce nono chiude la zona punti per quanto riguarda la gara di Abu Dhabi Charles Leclerc che invece fa il gambero e dimostra lo status di secondo in questa fase rispetto a Carlos Sainz che invece ha concluso in crescendo questa stagione e comunque garantisce alla Ferrari un piazzamento importante nel mondiale costruttori parentesi molto importante adesso sul team Alfa Romeo ma non perché sia simpatia della Alfa ma perché c'erano due ritiri diciamo da salutare il primo è quello di Antonio Giovinazzi che appunto causa purtroppo la prima Virtua Safety Car per un problema al cambio una Virtua Safety Car che dà la moda Verstappen di mettere delle gomme dure nuove e di riavvicinarsi a Hamilton prima della Safety Car dei Latifi Giovinazzi che comunque è stato appiedato in modo anche abbastanza incredibile e malvagio mi verrebbe da dire dall'Alfa Romeo che gli ha preferito Guanyo Joe di cui peraltro parleremo nella seconda parte del podcast e di fatto si congeda la Formula 1 in un modo non propriamente consono in ogni caso c'è già il sedile pronto per lui l'anno prossimo ma non in questa Formula 1 ci sarà spazio in Formula 1 per il team Dragon è un Alfa Romeo che cambierà tutti i piloti perché c'è da salutare anche il ritiro di Kimi Raikkonen il leggendario pilota finlandese l'unico in grado al momento di aver ancora portato il titolo del mondo in casa Ferrari fu il 2007 quindi parliamo veramente di una vita fa Raikkonen ha 42 anni anche lui purtroppo si ritira in un modo che non gli rende giustizia perché anche qui un problema tecnico gli impedisce di completare l'ultima gara della carriera perché sono di fatto oltre le 350 a memoria in ogni caso è un tributo necessario quello che sto facendo a Kimi Raikkonen perché è uno dei piloti che mi ha fatto anche innamorare e continuare a seguire questa Formula 1 Raikkonen ha segnato un'epoca è stato sicuramente tanto amato dal titolo della Ferrari perché appunto ha riportato il titolo a Maranello dopo l'epopera di Schumacher e da lì in poi nessuno è più riuscito a conquistare il titolo del mondo per la rossa è andato poi a aiutare Sebastian Vettel a provare a conquistare i titoli del mondo contro Hamilton senza riuscirci in ogni caso è un pilota che ha fatto la storia e che adesso appende il casco a chiodo alla età di 42 anni l'ultima vittoria di Raikkonen peraltro fu a Austin 2019 sulla Ferrari anzi in realtà era il 2018 comunque il gran premio degli Stati Uniti per un mondiale che adesso va a concludersi un mondiale che è stato veramente bellissimo finalmente dopo due mondiali di fatto corsi di Hamilton da solo senza avversari c'è stato un contendente vero e proprio al pluricampione inglese e per una volta dopo Rosberg del 2016 Hamilton perde contro il diretto rivale e questa volta è Max Verstappen ancora una volta ad Abu Dhabi a sto giro senza gara con i punti doppi in un finale veramente thriller che appunto rende giustizia alle 10 vittorie di Verstappen e al primo titolo del mondo dell'Olanda in un mondiale che va detto ha vinto tutto il muretto Red Bull e ha perso completamente tutto il muretto Mercedes perché la Red Bull ha utilizzato Sergio Perez nel modo corretto per far avvicinare Verstappen a rallentare Hamilton e ha chiamato Verstappen nei momenti giusti quando doveva essere chiamato soprattutto nella seconda safety car quando ha messo le gomme morbide per l'azzardo dell'ultimo giro al contrario Lewis Hamilton non è riuscito a avere un muretto competente è stato fuori con delle gomme dure veramente al limite della vita e infatti si è visto all'ultimo giro quando Verstappen non ha avuto difficoltà a passare il pilota inglese che comunque vince 8 gare quest'anno e chiude ha soltanto 8 punti dal pilota olandese che appunto conquista il titolo del mondo a differenza del papà che fu un comprimario ai tempi di Michael Schumacher in Formula 1 per un mondiale che peraltro si ferma ma soltanto per 3 mesi perché sappiamo già che si riprenderà il 20 di marzo in Bahrain per un mondiale di 23 gare per 8 mesi di durata e ci saremo ovviamente con i nostri Racing Podcast ma ci saremo anche ovviamente per il pagellone di quest'anno e l'appuntamento sarà per verosimilmente venerdì prossimo alle ore 19 ma adesso passiamo alla seconda parte perché c'è da celebrare un altro campione di categoria ma non di Formula 1 bensì di Formula 2 perché si è corso l'ultimo appuntamento del campionato cadetto e ha vinto Oscar Piastri che subito al sabato mattina fa suo il titolo di categoria avendola meglio di Guanyo Joe e Robert Schwarzman il pilota australiano che corre con il team Prema ha fatto veramente una stagione da fenomeno 5 proposition consecutive in 8 eventi e peraltro vittoria nell'ultima gara davanti al diretto rivale Guanyo Joe che sarà in Formula 1 a differenza di Oscar Piastri il che è semplicemente un delitto perché per quanto Guanyo Joe sia bravo questo pilota che vedete qui inquadrato Oscar Piastri dall'Australia ha vinto consecutivamente la Formula Renault 2000 nel 2019 la Formula 3 nel 2020 e la Formula 2 nel 2022 così come Leclerc e Russell è stato l'unico pilota al primo anno a vincere sia la Formula 3 che consecutivamente anche la Formula 2 Leclerc e Russell sono in Formula 1 l'anno prossimo con Ferrari e Mercedes per quanto riguarda invece Russell Oscar Piastri purtroppo invece sarà il pilota di riserva della Renault ma comunque fidatevi perché nel 2023 io voglio vedere questo ragazzo australiano in Formula 1 perché è un curriculum del genere fai veramente fatica a lasciarlo fuori dalla Formula 1 a meno che non ci siano interessi di soldi come per esempio nel caso di Guanyo Joe in una gara peraltro quella che ha visto Oscar Piastri vincere il titolo che lo ha visto peraltro consacrarlo sul podio dopo questa gara sprint sabato mattina con la vittoria di Ihan Daruvala pilota del Red Bull Junior Team per cui suona l'inno nazionale indiano ovvero Yanar Managana seconda posizione per Felipe Drugovic che sarà uno dei grandi protagonisti del weekend di Abu Dhabi e terzo appunto Oscar Piastri che ha la meglio sia di Robert Schwarzman che di Guanyo Joe nella prima gara perché appunto i due contender al titolo del mondo Formula 2 saranno veramente classificati after the music per una classifica finale di Formula 2 che dunque recita in questo modo Oscar Piastri è campione della categoria con 252,5 punti secondo non è Guanyo Joe ma è Robert Schwarzman che comunque fa un discreto weekend e si conferma runner up appunto della prima per il secondo anno consecutivo l'anno scorso fu battuto da Mick Schumacher quest'anno da Oscar Piastri e terzo è Guanyo Joe che comunque si riscatta e dà un senso alla sua stagione vincendo la seconda gara sprint della sera diciamo degli Emirati Arabi del pomeriggio italiano dove però Oscar Piastri fa il bello e il cattivo tempo gioca praticamente all'autoscontro fa sorpassi aggressivi che non abbiamo mai visto fare dal piota australiano e finisce pure fuori con contatti plurimi alla fine c'è spazio per Guanyo Joe e per il suo internazionale la marcia dei volontari secondo è comunque Robert Schwarzman che comunque ha difeso la sua seconda posizione e terzo è anche una volta Ralph Boshung pilota svizzero al secondo podio consecutivo in due eventi l'ultima gara vede peraltro Oscar Piastri vincere e consacrarsi definitivamente come il pilota più completo di questa categoria e che veramente meriterebbe l'anno prossimo un sedile in Formula 1 una gara dominata in lungo e in largo dal pilota australiano per cui suona Advance Australia Fair secondo è Guanyo Joe che anche lui comunque riesce a dare appunto anche una volta dignità alla sua stagione come ho detto prima e terzo è Felipe Drugovic al secondo podio in tre gare per una Formula 2 che anche come la Formula 1 tornerà in Bahrain insieme alla Formula 3 per delle categorie propedeutiche che torneranno al format vecchio di conseguenza Formula 2 e Formula 3 correranno insieme e la Formula 2 sarà di supporto pieno alla Formula 1 per 14 gran premi mentre la Formula 3 soltanto per 9 e tutti insieme ci ritroveremo in Bahrain il 20 di marzo prossimo per un mondiale soprattutto di Formula 1 che speriamo sia avvincente non dico come questo perché secondo me avere un mondiale dove i due contendenti arrivano all'ultima gara a pari punti decisa di fatto all'ultimo giro è veramente qualcosa di inarrivabile anche pensandoci in ogni caso vediamo se con il regolamento tecnico nuovo ci sarà spazio per la conferma di Red Bull e Mercedes ma anche con l'inserimento speriamo della mia McLaren e anche della Ferrari perché oggettivamente è da anni che la Ferrari arranca e ha difficoltà vero adesso è una macchina che porta qualche podio qua e la ha migliorato tantissimo rispetto all'anno scorso ma comunque non è lì che la Ferrari deve stare la Ferrari deve stare assolutamente un po' più in alto un po' come la scuderia per cui tifo ma in ogni caso un po' come anche Verstappen e Hamilton che hanno dato veramente spettacolo per 22 grand premi in questo mondiale 2021 fatemi sapere cosa ne pensate della gara di Abu Dhabi in sé e del mondiale se siete contenti che abbiamo visto Verstappen se siete un po' rammaricati del fatto che abbia perso il titolo mondiale Hamilton con un muretto che peraltro ci ha messo del suo in ogni caso venerdì l'ora 19 pagellone del mondiale Formula 1 per concludere con il Falmouth promossi e bocciati il saluto da Parvi di Metto Torgard ci vediamo al prossimo video